Amici del Bardo, anche oggi eccomi qui con tutte le ultime news dal mondo della WWE. Innanzitutto vi ricordo che stasera SmackDown è alle 19 su Sky Sport 2, non mancate. Ieri pomeriggio invece io e Luca Franchini siamo stati per la prima volta in diretta su questo spazio YouTube. Trovate la registrazione della live nel link che sta passando qui sopra. E ora alle news. Sami Zayn è fermo a tempo indeterminato per curare dei problemi di lungo corso, pare alla schiena, alle ginocchia e alle spalle. L'atleta verrà presto esaminato a tal proposito proprio dallo staff medico specializzato al quale si rivolge solitamente la WWE. La sconfitta bruciante contro Bobby Lashley, vista in questa ottica, assume ovviamente tutta un'altra dimensione. Giorni fa in una live vi avevo detto che secondo me la WWE tiene in enorme considerazione combattenti duttili come semi. E io ne sono davvero convinto. E non basta un risultato o un feud perso a modificare così radicalmente il valore intrinseco di un wrestler. Evidentemente che questo stop fosse imminente era nell'aria da qualche mese e si è semplicemente agito di conseguenza. Non appena avrò delle certezze sugli eventuali infortuni di semi e sui tempi di recupero ovviamente sarò qui a riferirvelo. Poche ore fa la WWE ha annunciato di aver concluso il suo rapporto lavorativo con Bicchess. Il comunicato della federazione si è presentato decisamente scarno e asciutto. E come sempre accade non ha in alcun modo motivato o giustificato questa decisione. Anzi ha dato un po' da pensare perché di solito quando un atleta se ne va la federazione gli augura buona fortuna nei suoi futuri progetti. Ma stavolta questa dicitura, questa liturgia di saluto non è stata applicata. E quando questo accade significa che forse c'è nell'aria puzza di bruciato. Significa che forse è accaduto qualcosa di strano. Ma staremo a vedere. Io terrò le orecchie bene aperte. Ieri a San Diego si è festeggiato il Rey Mysterio Day. Rai approfittando anche della data letta all'americana che forma il mitico numero 619. 6 come il mese di giugno e 19 come il giorno. Gli americani leggono le date così o comunque le scrivono così. Parlando di fronte al consiglio cittadino, Rey ha ringraziato per l'onorificenza assegnatagli. Dicendo, tra l'altro nelle varie interviste concesse, che le trattative, e questo è importante, con la WWE stanno proseguendo in maniera spedita. E che qualora tutto ciò si dovesse concretizzare con una firma, sul tavolo c'è un contratto di ben tre anni. Non sappiamo con quale frequenza d'esibizione. Però, ora, alcuni confini, alcuni contorni ci sono sicuramente più chiari. Poiché Rey ha già altri impegni per buona parte dell'estate, e di solito è uno che cerca di mantenere la parola, i mesi più probabili per un suo reale ritorno nella federazione dei McMahon rimangono quelli autunnali. Mistilio potrebbe essere comunque una guest star speciale, ad esempio a ottobre, nell'evento fissato in Australia, di cui vi ho parlato l'altro giorno, e se ci fossero i presupposti per dilazionare o posticipare il suo debutto, i mesi caldi poi diventano quelli da gennaio in poi, insomma, dalla Royal Rumble sino a Vresta e Almenia. Comunque, insomma, Rey ha confermato ancora una volta che le parti stanno chiacchierando, e che si tratta di qualcosa che potrebbe prendere forma concreta da un momento all'altro. Sempre ieri Bobby Roode ha festeggiato il ventennale dal suo match di debutto in un ring da wrestling, quindi complimenti e congratulazioni, perché venti anni in questo ambiente sono un'enormità, è tanto tempo, insomma, giù il cappello. Magari le sue vicende attuali non saranno così emozionanti o intriganti, però bisogna sempre riconoscere l'impegno, la determinazione, la costanza e i sacrifici di questi atleti. E poi la vita spesso può cambiarti sportiva da un momento all'altro, come se niente fosse. William Regal pare aver risolto i problemi di salute che lo attanagliavano, e tornerà ad aggregarsi al roster dei giovani di NXT a partire dalle prossime future registrazioni televisive. Invece Charlotte Flair è stata scelta per far parte dell'elitario club, dell'elitario pool, che ESPN inserirà nello speciale annuale Body Issue. La ragazza si è già sottoposta ad un servizio fotografico nel ring e senza veli, senza vestiti. Come potete immaginare, però, si tratterà di immagini artistiche, non volgari, non pornografiche. E se vi va di vedere una piccola anteprima, beh, lo potete fare cliccando sul profilo Twitter della combattente. Non aspettatevi niente di troppo rivelatorio, però così avete un po' l'idea di quello che sta accadendo. Perché è importante questa cosa? Beh, perché una rappresentante del wrestling sdogana ulteriormente la disciplina in un ambito dove di solito le wrestler non vengono considerate, in un ambito patinato, prestigioso, che sarà visto sostanzialmente da mezza America. Chiudiamo con una notizia un po' ridicola che ci permette di respirare e di allentare la tensione e perché devo riferirvi di una piccola disavventura aerea per Liv Morgan che, se non sbaglio, ha vinto il match di coppia di recente. Vabbè, forse il karma l'ha punita per questa vittoria visto che su Twitter si è lamentata di essersi trovata in aereo seduta con un tizio nella fila davanti che continuava a scorreggiare. E l'ha scritto su Twitter, insomma, c'era davanti uno scorreggione che le ha nauseato l'aria per tutto il viaggio aereo. Vabbè, sono cose che succedono nella dura vita dei nostri amici lottatori. Va bene, con questa ho terminato. Vi ribadisco e vi ricordo l'appuntamento con SmackDown alle 19 stasera su Sky Sport 2 e vi ricordo, insomma, di fare un giro anche nelle tantissime altre rubriche adesso qua intorno ne appariranno alcune suggerite che in questi giorni ho pubblicato sul canale. A chi si accinge ad affrontare degli esami scolastici fatevi forza! Fate come Brock Lesnar e fai ma tutti i compiti a tutti i test e vedete di passarli alla grande. D'accordo? Altrimenti, ponio nelle palle! Grazie mille per l'ascolto. Di Tarot 20, commentate le news qua sotto, lasciate un like, un mi piace, un commento, quello che vi va. Noi ci vediamo quanto prima sempre e solo qui sul canale del Bardo. Alla prossima! Ciao!